Ciao a tutti Farò delle considerazioni personali a fini video perché c'è davvero tanto da prendere ma abbiamo poco tempo a disposizione Quindi godetevi l'analisi del trailer e a praffoco, ciao Bene, possiamo già entrare a vedere aspetti che a me non è che mi piacciono tanto Però comunque vediamo che c'è un'astronave conficchiata sulla terra che sarà poi piena di alieni E sinceramente è una cosa abbastanza stravagante, vedremo poi però come si evolverà Perché anche se in solo 4 aveva un'impressione, senza lo third, scusate, the third Aveva un'impressione cattiva però poi è stato un bel gioco alla fine considerato a me Comunque andiamo avanti con il trailer e considerazioni personali alla fine Ora voglio solo farvi vedere delle immagini in più, ciao Passiamo di nuovo a fermarci e in questi 10 secondi che sono passati abbiamo visto varie cose Innanzitutto una donna che sembra un'aliena che lancia questo sparapuffi abbastanza strano Poi questa donna che è sopra una moto che probabilmente sembra uscita da Tron Legacy Diciamo non so se lo conoscete E in più questi pugni mortali con una supercorsa Diciamo forse saranno implementati anche dei superpoteri all'interno di dei gioco Questo mi fa storcere un po' il naso però vi dico Considerazioni finali sempre alla fine del video E quindi aspettiamo Andiamo avanti Ciao Nei vari capitoli sono stati varie comunque assurdità Però questa mi sembra un po' eccessiva Diciamo una chitarra che sparapuffi è un po' una stronzata Comunque andiamo avanti Non possiamo dire più nulla Come detto saranno presenti anche dei superpoteri Speriamo però che questi superpoteri non siano troppo eccessivi Perché comunque è sempre un videogioco fatto da persone normali Cioè chi adopera i Saints sono una gang normale come il GTA Ciao Grazie a tutti Bene ragazzi ecco le mie considerazioni Non le voglio fare molto veloci perché Già l'ho fatto una volta ed era davvero una rottura di coglioni come lo fate In ogni caso vedrete scorrere delle immagini E sinceramente questo titolo non Questo trailer anzi Non mi Cioè non mi è risultato dunque Un lavoro Molto dettagliato Diciamo Cos'è stata la cosa che non mi è piaciuta proprio? L'ambientazione Allora noi sappiamo che Saints Row Dottor Lord e tutti gli altri Saints Row Sono ambientati in una mala vita In una mala vita quindi in un quartiere di New York Ovvero i Saints Sono come i Ballas di GTA Sant'Andreas per dire E soprattutto questa cosa Forse quella di Deep Silver si sono completamente dimenticati Cioè i superpoteri Gli alieni Sono i robot I mostri Sono stronzate Perché principalmente L'ambientazione non te lo consente di farlo Abbiamo sempre visto comunque Un po' delle cazzate In Saints Row Dottor Lord Ma queste cazzate ci facevano ridere Ci facevano Comunque ci rendevano Felici Cioè no Non credo ci rendevano felici Però ci divertivano E comunque era un ottimo passatempo Giocarci Saints Row 4 invece Dà Oltre a presentare un'ambientazione Quasi uguale Nonostante in tutti i poster Ci sia una Un Washington dietro E questi che conquistano forse L'America Questo non mi sembra proprio Perché A parte qualche immagine A parte degli alieni La Diciamo L'ambientazione sembra quasi quasi uguale E credetemi Io ci ho giocato A Saints Row The Third E me la ricordo In più Non c'è neanche strategia di mercato Da parte quelli di Di Deep Silver Perché Semplicemente cosa hanno fatto Hanno Detto La data d'uscita E poi hanno detto Che se lo preordinavamo Ci davano delle cazzate Diciamo Il Commander in Chef Edition Cioè Una puttanata Alla fine Perché Non ti costa nulla Dare Un poster In più Sono quelle piccole cose Che rendono accattivante Il titolo Oltre a esso Comunque Cioè In sé che deve essere Comunque bello Ma Diciamo Il titolo Semplicemente Mi è sembrato Questo trailer Mi è sembrato Un copia e colla Del vecchio Anche perché Comunque ragazzi Di Deep Silver L'ha comprata Quasi a dicembre La La saga di Saints Row Non so come Ad agosto Già Possano distribuire Il nuovo titolo E quindi Forse sarà un copia e colla O forse magari Mi sbaglio Perché comunque La THQ ci stava lavorando Però Non ho mai sentito Parlare di queste Stronzate qui Inoltre Diciamo Non Dopo che È uscito Il videogioco Non se ne è più parlato Semplicemente La Deep Silver Se ne è altamente fregata Non è che hanno fatto Come GTA Che ogni tanto Mandavano I ferrum immagini Magari Di GTA 5 Oh mio dio E noi allora Ci facciamo I trip mentali Che magari sarà Un titolo Perfetto No Questi semplicemente Cosa hanno fatto Hanno messo il titolo Hanno messo il trailer Hanno detto Hanno annunciato tutto Hanno annunciato anche Che La data di uscita E punto Basta Finita Non c'è un rumors Da il 23 maggio Dal 20 No Sì dal 23 maggio Non c'è un rumors Da il 23 gennaio Punto Tutto calma piatta Non si sa più un cazzo Non si sa più un cazzo Non si sa più un cazzo Non si sa più un cazzo